Buonasera signora, sono De Santis, chiamo dall'ospedale di Capo, alla signora Giovanna per favore. Sono io. Signora, buona signora Manna? Sì. Salve signora, senta, lei è prenotata per l'8 settembre per togliere il gesso, però ad un attento esame di tutte le lastre e di tutti gli esami che sono stati effettuati, il professore riteneva che secondo lui bisognasse aspettare un altro pochettino prima di toglierle il gesso per essere più sicuri che la cosa, perché in effetti lei l'ha cambiato, qui c'è scritto 23 agosto, pensiamo che meno di un mese sia troppo poco, quindi noi pensiamo che lei dovrebbe tenere ancora il gesso, almeno fino a fine settembre. Madonna mia, ma perché? Che imprevisto c'era? No, non c'è nessun imprevisto, lei deve stare tranquilla, non c'è nessun imprevisto. Non è qualche complicazione? No, se ci fosse stata una complicazione avremmo dovuto togliere il gesso e rioperare, no? Si trova? Quindi lei deve stare tranquilla, non è niente di grave e riteniamo che considerata anche l'età, mi scusi se mi permetto, considerato lei mi insegna che la decalcificazione delle ossa dopo la menopausa comincia in maniera un pochettino più, ci vuole più tempo per rimarginare, ci vuole più tempo per saldare, allora non è che possiamo rischiare che per un mese, un mese e mezzo, massimo due mesi di gesso in più, poi dopo ci troviamo appunto e da capo, allora lei preferisce soffrire altri due mesi o preferisce che poi rischiamo che una storta le possa portare alla situazione in maniera che poi dobbiamo rioperare. Ma poi dopo, diciamo, dopo passati questi altri 15 giorni... No signora, un attimo, non sono 15 giorni, lei deve... E cioè altri 15 giorni, cioè fino a settembre allora? Metà ottobre per essere proprio certi, certi, certi. Niente di meno, fino a... Diciamo che fino al 15 ottobre sarebbe proprio l'ideale. Lei signora, sia chiaro, può venire qua, metterla a firma e si toglie il gesso, eh? Su questo non c'è ombra di dubbio, però poi si prende tutte le responsabilità di quello che può succedere. Ho capito. Lo so. Devi avere pazienza, però lei deve capire... Ma poi dopo, diciamo, questo, devo fare ugualmente tutta la riabilitazione? Dopo, dopo... La fisioterapia? Dopo comincia la riabilitazione. Dopo comincia la riabilitazione. Il dottor Mirra ha già pensato che, insomma, dobbiamo fare tutto un processo di riabilitazione fatto per bene. Lei porterà un tutore. Sì. Porterà un tutore. Togliamo il gesso. Metteremo un tutore che deve essere fisso. Metteremo, diciamo, i chiodi che sorreggono bene la gamba. Signora, diciamo che quando uno sta intorno ai 60 anni ci vuole un anno, un anno e mezzo per ristabilire proprio tutto com'era. Niente di meno. Lei dovrà fare un po' di riabilitazione anche nell'acqua. Lei ha una piscina vicino casa? No, no, non c'ho niente. Ho il problema pure che sono sola e infatti adesso sta a casa di mio figlio, diciamo, tutto questo periodo. Signora, però se piange mi fa sentire male. Io la voglio aiutare, però... No, va bene. Lei non deve piangere, signora. Lei deve essere forte. Lei è mamma di figli. Lei ha cresciuto i figli. Io mi permetto di parlare perché potrei essere suo figlio. No, ma questo lo so. Perché poi capiscono... Vabbè, queste sono cose, diciamo... No, ma si apra, signora. Non si preoccupi. No, perché io sono sola. Lavoro. I figli miei diciamo che sono sposati. Anche loro hanno problemi. Ma dicendo, ma c'è la moglie di mio figlio che deve partorire. Bella, è una gioia. Arriva un nipote, signora. È una gioia. Lei sta così. Non posso stare qua, capite, capite? Ci sono tanti problemi. A casa dell'altro non posso stare perché lavora marito e moglie. Vanno la mattina e vengono la sera. Signora, vogliamo vedere se il dottore trova una struttura per anziani dove vi parcheggiamo? Io sto pure lontano. Mi capito, per me, 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 diciamo, non è che per mio figlio che mi cassa. Se lei piange, signora, se lei piange, signora, se lei piange, non risolve niente, io penso che... Sì, no, vabbè, questo lo so, vabbè, diciamo, io sono pronuncivo così. Eh, lo so, lo so. Perché poi lavoro, poi non è che, diciamo, è un lavoro che ho uno stipendio, non è che lavoro, diciamo, in... diciamo, quello... guadagno quel minimo necessario, diciamo, per vivere io e... Sì, io vi chiedo scusa, mi facite chiangere pure a me, però, si facite a QSIM Center. Perdonatemi, ho avuto un attimo, io sono un po' sensibile a queste cose, perché pure io... No, vabbè, comunque non... 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 nel caso. Perdonatemi, sono un po'... sono un po' sensibile. Salvatore, Salvatore, ma tu cacci di casa a mamma nel caso? No, ma è lei che si stava creando i problemi. Eh, ma tra quanto nasce il bimbo? A fine mese. Signor, a fine mese, ho gesto palato per un luato, pigliato in braccio, nipoti... Giovanna! Giovanna? Sì? Benvenuta su Radio Marte, buon pomeriggio! Ma chi è che ha telefonato? Suo figlio, signora, suo figlio, Salvatore, guarda come cagnata a voi, c'è... Ma chi è che ha telefonato? Salvatore! Dimmi, Fabio! Spiega a mamma che succede! Ma è tutto uno scherzo! Ma è tutto uno scherzo! Ma sai cosa è che... tu vuoi fare questi scherzi? Sì? Ma è tutto uno scherzo, è incredibile proprio! Visto qui non ti ho chiamato! Guardate! Tony, Luan... Ma chi è la Maria, eh? Tra mamma e figlio, non mettere il dito, a cussiero, fatta! ...doppia scheda per utilizzare...